Il tablo mariage, cos'è l'amore? È un cumulo di tante cose. Lei conferma, venga lei che noi usiamo il clarinetto. Il clarinetto è anche un simbolo dell'amore. Che fa? Ti lo filufi. L'amore è passione. La passione è quando tu prendi una donna, trattala male, trattala male e dopo si sa, nasce. Poi c'è la protezione, perché per noi... Se non usi la protezione dopo la vera... Se non usi la protezione, cresce la famiglia. Poi c'è il rispetto. A me del rispetto piace la parte finale. Il petto. Il petto sì, però più petto c'è, meglio è. Poi abbiamo il sostegno. Anzi, posso interrompere? Qualcuno ha detto che se non è almeno una quarta, non è vero, amore. È vero, quindi controlliamo. Controlliamo il sostegno, perché la quarta deve essere sostenuta. La fiducia... La fiducia sì. Se non c'è fiducia, dopo vedi tipo uno come lui, con l'occhietto suo, è un po' mandrillo questo. Se non gli metti il microchip, Doriana, metti il microchip. E dove si mette il microchip? E dove si mette? Dietro l'orecchio, dietro l'orecchio. Divertimento. Ecco, divertimento. Se non c'è divertimento... Divertimento? Che hanno messo a divertimento. Guarda un po'. Qui c'è Sandro dell'Aquila e Lillo Stelo. Ok. Poi l'intesa, l'intesa... Ma per forza, se non è tesa... Non è in. In bisogna avere la tesa. Dopo c'è la gioia. La gioia, ed è la gioia. Più busta c'è, è più gioia. Quindi la gioia... Ci passa alla felicità, non è stato successo. E poi la complicità. La complicità è quando non è complice. Spariscono le buste. Spariscono le buste. Tipo, noi abbiamo rubato notoriamente almeno 4-5 matrimoni le buste. Siamo prese notte. Anche 6. Anche 6. Abbiamo poi dopo la condivisione. Ecco, su sto fatto della condivisione. Chi l'ha detto che la condivisione non è giusta? Io, ad esempio, apprezzo se mia moglie dicesse Lillo ti condivido con tutte le altre donne. Invece la moglie lo so perché non è d'accordo su sto fatto della condivisione. Condivide. Lei ritiene. Chiudiamo con l'impegno. L'impegno è sacro. Particchiare amicizia lunga. Il contratto è firmato. L'accappare l'avete dato. L'impegno è l'impegno. Mi raccomando. Poi chiami musicista. Perché la musica è così importante. La musica... Deve andare avanti. Adotta un musicista. Adotta un musicista. Bene.